Nel settimo centenario della morte del sommo poeta, lo scrittore abruzzese Roberto Melchiorre torna in libreria con Dante Alighieri il racconto di una vita, edito dalla Spiga nella collana di narrativa per la scuola secondaria Leggermente. Laureato in filosofia, da prima insegnante e poi professore universitario, Roberto Melchiorre firma da anni i libri di letteratura per ragazzi. Pericle ed Ercole, Leonardo da Vinci, Gandhi e Mandela, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono solo alcuni dei personaggi raccontati dallo scrittore abruzzese che nel suo ultimo libro traccia soprattutto il profilo umano di Dante con i suoi pregi e l'immenso talento ma anche con i suoi difetti. Passioni, amori, amici, battaglie e l'esilio del poeta rivivono in una narrazione in cui la storia intricatissima di Firenze fa da sfondo all'intreccio con grande chiarezza e rigore storico. Dopo essermi occupato di Mandela, Gandhi, Leonardo da Vinci e di temi come la mafia e i cambiamenti climatici, quest'anno per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ho tentato di raccontarvelo. Ho cercato nel mio libro di rendere questo straordinario personaggio della nostra storia, della nostra lingua, della nostra letteratura interessante anche ai più giovani. Non è una cosa semplice. Allora ho utilizzato un espediente narrativo, cioè quello di far raccontare lo stesso Dante, di far parlare lo stesso Dante, che narra la sua giovinezza, i suoi amori e non solo quello per Beatrice, ma anche il suo impegno come militare, come cavaliere alla difesa di una Firenze tanto amata quanto luogo di terribili lotte intestine. E poi il Dante politico, il Dante che addirittura diventa priore della sua città, una città che poi lo caccia. E' lui che è costretto a girare per l'Italia in cerca di protezione, in cerca di ospitalità. Alla fine del libro ho voluto mettere anche un focus di approfondimenti che riguardano le fonti, cioè da dove noi attingiamo le notizie sulla vita di Dante e poi anche qualche curiosità come la storia del ritratto, del volto di Dante da Giotto in poi.